E' stato un bellissimo e interessantissimo viaggio su Asteroide. La fortuna ha voluto che coincidessero una serie di iniziative per cui Asteroide ha potuto veramente potenziare ed evidenziare tante belle cose che nel quartiere accadevano. Come coordinatrice del progetto l'F167 veramente ho potuto apprezzare, sperimentare, toccare con mano tutto quello che è stato fatto insieme. I laboratori con Susan George, i laboratori con Luigi Catalani. Abbiamo fatto veramente un percorso interessante che non ha fatto altro che potenziare tutto quello che sul territorio già in qualche modo si stava muovendo. Una bellissima esperienza. All'inizio ero un po' un po' di tubante, un po' impaurita diciamo. Però grazie anche ai tutor che sono stati bravissimi ho avuto modo di partecipare a un laboratorio teatrale che per me era una cosa irraggiungibile. Però alla fine è stato veramente divertente mettersi in discussione con i ragazzi e da lì poi è nato anche un cortometraggio. Quindi più di così è stata una bellissima esperienza e l'auguro a più persone. Quindi mi auguro che questo progetto vada avanti e che possono partecipare persone, mettersi in discussione perché sono veramente delle esperienze bellissime. A me resta tanto innanzitutto aver conosciuto tante altre persone in gamba che si occupano del sociale. Con Asteroid ho collaborato soprattutto per quanto riguarda dei progetti con i ragazzi del Banzi ed è stato bello sentire le loro testimonianze, suggerimenti su tutto ciò che c'era da fare in questo periodo alquanto particolare. Quindi ci hanno segnalato delle strategie su come muoverci noi stessi associazioni per aiutare la gente in difficoltà eccetera. Quindi la raccolta di beni alimentari, di vessiario e quant'altro. Ma un'altra esperienza molto molto bella che a me personalmente rimarrà tanto è stata quella con Luigi Catalani che ci ha aiutato a creare un wiki book e anche wiki voyage cioè una mappa virtuale turistica sulla 167 sul nostro quartiere. Abbiamo raccolto fotografie, segnalato tutte le varie punti di incontro, di interesse culturale, artistico. Ecco ed è stato bello per me che in particolare abito in questo quartiere, far emergere tutte queste queste cose belle che un quartiere come la 167 può offrire. Resta quell'incontro, resta aver fatto amicizie, resta il conoscersi perché è proprio questo che crea comunità, che mi sembra un tesoro che manca oggi nella società, il fatto di ascoltarsi. Resta la bellezza di trovare persone che vogliano lavorare gratuitamente per gli altri e in questo nostro quartiere grazie a Dio ci sono tante persone, tante associazioni che si stanno dando già da fare e in effetti vediamo una crescita esponenziale di interesse, di benessere che si sta diffondendo nel nostro quartiere. Grazie a tutti.